Un trentenne è stato ritrovato domenica mattina in gravi condizioni in un dirupo a Casalvelino in località Serra Marina. Il ragazzo è stato prontamente soccorso e si trova attualmente presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania in gravi condizioni. È giallo sulle cause che hanno portato alla caduta. I rilievi dei carabinieri hanno portato a scoprire la presenza dell'auto del trentenne a pochi passi dal luogo del ritrovamento, il che farebbe pensare ad una caduta causata dalla perdita dell'equilibrio dopo essere uscito dall'auto. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.